La professora Tamburrini ha il PhD alla Columbia University in New York ed è professore di filosofia della scienza e della tecnologia all'Università di Napoli Federico II. Mi piace soltanto brevemente ricordare che è stato per sei anni professore all'Università di Pisa ed è stato il coordinatore del primo progetto della Commissione Europea sull'etica della robotica all'interno del sesto programma quadro. 15 secondi, basta così. Nel 2014 ha avuto il premio Giulio Preti del Consiglio regionale della Toscana per i suoi contributi del dialogo tra scienza, filosofia e democrazia. Grazie a voi per l'invito e devo dire anche questi interessi iniziali sulla filosofia robotica, no la filosofia robotica già veniva a Napoli la scuola cibernetica ma gli aspetti sull'etica in qualche modo mi sono stati molto stimolati dall'ambiente pisano. Quindi fare questo primo progetto europeo è stato importante con tante persone che appunto qui ho conosciuto, Paolo Dario, qua c'è Danilo De Rossi, Antonio Bicchi, tanti altri, Cecilia Laschi eccetera. Quindi sono molto contento di parlare di questa roba. Allora, diciamo da un punto di vista filosofico, un tema che si è affiancato di recente, abbastanza più di recente direi, al classico tema, l'intelligenza delle macchine, l'intelligenza degli automi, eccetera, eccetera, è il tema della autonomia. Aspettate, voglio mettere un attimo, vabbè, mi direte, sono le 12.07. E l'autonomia, mi dai tu di 5-10 minuti, allora, dell'autonomia che in qualche modo io lo vedo molto distinto e abbastanza ortogonale, se volete, al tema dell'intelligenza. Perché ci sono macchine che umilmente hanno compiuto tante cose in modo autonomo, anche dei compiti ovviamente nella fabbrica, cose come in scatolare i pelati di pomodoro, eccetera, eccetera, e l'hanno fatto in modo autonomo. Naturalmente, quando usiamo la parola autonomo in questo senso, la stiamo usando in un modo molto diverso da come la usiamo quando parliamo dell'autonomia dell'uomo. Autonomia dell'uomo, c'è una capacità di sentire come proprie delle motivazioni per l'azione, per esempio, oppure fare propria una legge morale, ripetendo, diciamo, richiamando un personaggio che è stato molte volte evocato già stamattina qua. Mentre invece dire in scatolare autonomamente vuol dire sostanzialmente la capacità di svolgere un compito da solo senza interferenze esterne, o interferenze oppure contributi, aiuti esterni. Bene, quindi queste differenze dobbiamo tenerle presenti. Noi con la nostra autonomia morale in qualche modo vorremmo che queste macchine autonome nel senso del compito svolgessero in conformità, per esempio, con delle regole che consideriamo moralmente accettabili, i loro compiti. Oppure, ma questa è una cosa ancora molto complicata, soprattutto da quando è intervenuto il tema dell'apprendimento automatico, che rende molto opache le ragioni per cui le macchine compiono certe cose, la possibilità è darci conto e ragione in qualche modo del perché fanno delle classificazioni, ti danno un prestito in banca oppure no, eccetera, perché magari hanno delle prestazioni ottime, ma dal punto di vista dell'averne un conto e ragione anche di carattere morale, se mi hai escluso per esempio per motivi razziali o altre cose di questo genere, la cosa diventa piuttosto complicata. Ma non mi occuperò di questo, sono tante dimensioni di questo tema, quindi vi ho detto queste cose. Ora, l'etica in un certo senso funziona come un filtro. Perché funziona come un filtro? Perché alcuni dei compiti che vengono svolti in autonomia sono critici o sensibili dal punto di vista etico, nel senso che se fossero svolti da esseri umani, in qualche modo ci sarebbero problemi di responsabilità, di conseguenze e di decisioni che hanno una loro valenza morale importante. Qui per esempio vediamo subito in alto a sinistra un termostato che ha in autonomia rispetto a un set point, accende o spegne una candaia, benissimo, riesce a farlo regolarmente, probabilmente non diamo a questa autonomia di questa macchina molto semplice, che viene richiamata tanto anche nelle discussioni sull'intelligenza della macchina e dell'uomo, oppure dei sistemi biologici, dicendo ma come facciamo a dire un termostato non è intelligente, mentre noi sì, insomma si sono versati fiumi di inchiostro su questo, bene, però tutto sommato invece quelli lì nel riquadro in rosso hanno più, ci creano un campanello, fanno scattare un campanello d'allarme di carattere morale etico, per esempio le automobili autonome che sono là, sulla destra sempre in alto abbiamo invece le armi autonome, quelle che sono in grado appunto di tracciare e volendo, diciamo, avere una nuova possibilità di anche di attaccare un essere umano o qualche altro sistema, oggetto ritenuto nemico, poi abbiamo sotto, ne parlerò molto poco, qualcosa che ha a che vedere con l'etica della cura medicale o no e qui ho fatto due cose, da un lato ci ho messo appunto la cura di pazienti, oppure possono essere diciamo qualsiasi categoria, diversamente abili, persone anziane, eccetera, eccetera, e poi chirurgia, ci ho messo la microchirurgia che mi sembra particolarmente significativa, dirò ma qualcosa molto poco su questo. Andiamo invece, andiamo avanti, guardiamo le questioni etiche che riguardano i veicoli senza conducente, molti di voi ne avranno sentito parlare di queste cose perché sono venute pure alla ribalta dei giornali, a televisione e di altri mezzi di comunicazione di massa, come si dice in effetti noi sappiamo che anche, ecco, nel caso dei veicoli senza conducente, soprattutto in situazioni di traffico misto cioè che vedono sia esseri umani che sistemi robotici, informatici, governare le automobili ci saranno delle situazioni in cui ovviamente bisogna minimizzare le situazioni di collisione inevitabile ma non si possono del tutto eliminare, come quando accade quando abbiamo un treno che non può fermarsi in meno di 700 metri e ha un ostacolo sul binario a 100 metri, là c'è una collisione inevitabile. Bene, ma in caso di queste collisioni che siano inevitabili o altamente probabili e in situazioni di traffico misto, che deve fare? Come dobbiamo programmare? Vedete qua c'è una questione importante, noi in anticipo dobbiamo programmare o addestrare un sistema a fare qualcosa mentre se io mi trovo in quella situazione ho una decisione proprio in una finestra temporale di millisecondi e posso non avere rispetto a quello a capacità razionale noi stiamo assumendo che ci sono delle capacità di elaborazione maggiori delle macchine in questi scenari che discuteremo ci sono molte assunzioni per cui sono delle semplificazioni, l'importante è poi vedere se questi scenari semplificati e idealizzati hanno un qualche senso rispetto alla realtà tecnologica che dobbiamo affrontare e se c'è un ruolo anche per l'etica da giocare in questo ambito. Allora, le due domande fondamentali su cui si è rivolto il dibattito è una per così dire di tipo etico-consequenzialisto dobbiamo programmare questo veicolo senza conducente in modo da minimizzare sempre in qualsiasi circostanza i danni per gli umani coinvolti? Questa è una delle... ovviamente è all'interno di un filone di filosofia morale che è quello di andare a guardare le conseguenze. L'altra invece in qualche modo è una domanda che fa appello a dei diritti di qualcuno e a dei doveri corrispondenti in un certo senso bisogna programmare invece questo sistema in modo da salvare sempre la vita dei suoi passeggeri dopo tutto il proprietario che sta lì. Allora queste domande ovviamente sono state sviluppate sulla base di codi di armamentari che già ci sono nella filosofia morale a cominciare agli anni Sessanta voi avete sentito in altre salse presentati i problemi tipo il cosiddetto trolley problem. Beh, quello scenario idealizzato è qua, che abbiamo una conoscenza perfetta dell'ambiente e questa conoscenza perfetta ci permette solo di prevedere che ci sono soltanto due possibili risultati da questa situazione l'automobile investe i pedoni che sono sulla strada per un qualche motivo, non ci importa nemmeno sapere perché oppure vanno sul blocco di cemento, sul New Jersey, l'automobile, sul New Jersey a sinistra creando problemi gravi per la salute dei passeggeri, del passeggero magari, no? Allora, ci dice qualcosa questo sugli strumenti di tipo morale con i quali noi affrontiamo questo tipo di situazioni? Beh, certamente ce li dice perché vedete, in un certo senso, rispetto alla domanda iniziale innanzitutto ci dice che noi abbiamo una etica mista che dipende anche dai ruoli che giochiamo se è un'etica per cui dire in terza persona o in prima persona se sono in terza persona e quindi in un certo senso dovrebbe essere anche il punto di vista dell'ingegnere che si occupa di questa roba, e noi vabbè bisogna minimizzare assolutamente i danni perché noi abbiamo 20 milioni di vittime da incidenti automobilistici nel mondo noi dobbiamo minimizzare questo, ridurlo con l'uso dei sistemi, dei veicoli senza conducente ricordatevi che, non so se qualcuno si è imbattuto in questo, anche Elon Musk qualche tempo fa ha detto guardate è moralmente riprovevole non introdurre, lasciando perdere le sue motivazioni dal punto di vista delle conseguenze non ce ne importa niente ma lui dice è moralmente riprovevole non introdurre i veicoli senza conducente perché questi porterebbero a riduzione delle vittime della strada quindi si fa moralmente, vuol dire a questa visione tipo conseguenzialista però nel momento in cui ti metti nei panni del proprietario dell'automobile senza conducente beh insomma quella di una situazione in cui deve salvare tre persone che attraversano la strada e sacrificare te perché vai in un burro beh le persone non sono più tanto d'accordo quindi come vedi c'è qualche incoerenza di fondo negli schemi morali che noi utilizziamo e certe volte li utilizziamo ad hoc e questo ha più a che fare con questioni sociologiche, antropologiche è interessante dire questo però io adesso ho questo problema quindi qualche cosa bisognerà pur fare che va al di là di tutto ciò allora questo che vi ho detto ha a che fare con le tensioni fra due schemi abbastanza diversi e spesso confliggenti fra loro che sono lo schema di dire il bene è ciò che porta alle migliori conseguenze e l'altro è di dire no ci sono dei doveri e dei diritti inviolabili che io non posso andare mai a intaccare va bene indipendentemente dalle conseguenze ok quindi per esempio non posso uccidere un innocente Hitler c'ha in mano un bambino c'ha in braccio un bambino io se lo uccido salvo milioni di persone ci sono stati anche film ovviamente su questo come ben sapete Bastardi senza gloria eccetera eccetera e l'altro il deontologico quello lì dei doveri dice no non posso a quell'ace è un innocente quindi non posso far prevalere questa considerazione sulle conseguenze rispetto all'idea dei doveri e dei diritti quindi sono conflitti come diremmo interteorici fra diversi schemi teorici e l'etica normativa ma vediamo il problema è che ci sono anche all'interno dei singoli schemi qua prendo e questo diciamo il dibattito filosofico ha messo molto in luce anche per gli ingegneri queste problematiche qua prendo il punto di vista conseguenzialista guardate qua chi dobbiamo investire qua quei quattro scalmanati che stanno attraversando le strisce pedonali su Abbey Road abbiamo solo queste tre possibilità quindi le idealizzazioni dovete ingoiarle il motociclista sulla destra o il motociclista sulla sinistra bene un ragionamento di tipo conseguenzialista in genere è divertente come dire discutere con le persone questo ma qua abbiamo un'organizzazione un po' fatta diversamente col tempo della presentazione poi dopo le domande un atteggiamento rigorosamente o perlomeno diciamo più conseguenzialmente conseguenzialista è quello di dire beh io devo colpire fra le tre possibilità perché a parità di numero uno vado a colpire quello a destra perché? Perché c'è il casco e c'ha quindi più possibilità di sopravvivere e di andare avanti rispetto a quello a sinistra ma questo crea delle tensioni insopportabili all'interno dello schema conseguenzialista perché? perché se io fossi quello col casco e vivendo in una situazione di traffico misto che cosa farei domani? beh probabilmente il casco non lo porto più perché so che sono l'obiettivo la vittima sacrificale è prediletta e quindi me lo tolgo e beh però da punto di vista conseguenzialista questo è disastroso perché l'evento raro di una situazione del genere è molto meno raro della caduta del motociclista senza casco e quindi nel lungo periodo non massimizzo affatto il benessere collettivo quindi vi rendete conto che questi nostri schemi che noi enunciamo a livello teorico poi li caliamo in queste situazioni pratiche soprattutto di tipo tecnologico e non funzionano più non credo che questa sia una storia nuova nel senso che con la bioetica qualcosa di simile è avvenuto cioè nel senso che lo sviluppo tecnologico che ha portato alla possibilità per esempio di sopravvivenze oltre quello che una volta naturalmente era uno spegnersi della vita beh sicuramente ci ha posto di fronte a dei problemi che non sapevamo molto bene maneggiare e quindi abbiamo dovuto affrontare la bioetica in qualche modo è arrivata a formulare dei principi generali qua stiamo ancora a delle cose per intuizioni per carità molto incisive interessanti come può essere come possono essere leggi della robotica di Asimov ma la bioetica è arrivata diciamo ovviamente ha costruito su millenni di storia la medicina è arrivata a dire principi di non maleficenza di beneficenza di giustizia per esempio i problemi della giustizia sono stati evocati stamane da Remo Bodei se ci dovesse essere una grande disoccupazione e se i robot producono grande ricchezza come dovremmo redistribuirla naturalmente è tutto un sé perché non sappiamo se questi sono gli scenari veramente però dal punto di vista normativo tu devi attrezzarti in anticipo allora qua come vedete ci sono dei problemi vedete questo è semplicemente il ragionamento principio morale massimizziamo il benessere collettivo in ogni singola situazione allora sacrifichiamo il motocista con il casco si scoraggia il rispetto della regola sull'uso del casco non si massimizza il benessere collettivo nel lungo periodo va bene allora che facciamo prendiamo un principio morale diverso sempre conseguenzialista la regola sull'obbligo del casco è da includere in ogni sistema di regole che soddisfi il criterio delle migliori conseguenze ho messo la parolina attese attese sul lungo periodo naturalmente una finestra temporale ampia prima era proprio ic et nunc in ogni situazione bene quindi già ho cambiato una prospettiva e perché questo benissimo perché non bisogna scoraggiare l'accettazione della regola che pensiamo che nel lungo periodo porterà le migliori conseguenze anche se localmente localmente posso fare qualcosa che dal punto di vista del benessere collettivo non va bene dell'aumentare o diminuire e allora non bisogna investire il motociclista col casco questo è un non bisogna non si deve ma che facciamo allora deterministicamente investiamo il motociclista senza casco tiriamo la monetina insomma come vedete ci sono tutta una serie di bei problemi aperti che la questione allora noi dobbiamo però passare da questi scenari idealizzati a scenari più realistici quali sono i scenari più realistici sicuramente qua abbiamo detto conoscenza perfetta prevedibilità del futuro mentre tutto questo nel traffico misto o nel traffico anche soltanto è qualcosa sono tutti ragionamenti sotto incertezza e in più abbiamo degli strumenti morali che ci lasciano un po' a metà del guado allora chiaramente io credo che tutto questo è una discussione etica che è stata interessante ma che non può essere che il presupposto di qualcosa di diverso cioè qualcosa di diverso per le complicazioni mentre dico vi dico le cose per le complicazioni questo è un angolo mi pare dietro forcella piazza delle mura greche ecco no che ho fatto aspettate eccolo qua qua guardatelo perché sono ancora più complicate questo è un traffico di una giornata di ordinaria fondia della mia città va bene quindi questo comunque quindi oltre ai problemi le idealizzazioni ecco io non so quando si farà un traffico misto qui dentro no allora vi assicuro che noi dobbiamo vivere diciamo quotidianamente con queste situazioni e in molte circostanze ci siamo anche abituati non è che è una cosa questo soltanto per dare un po' come dire un po' spennere gli entusiasmi sull'interesse degli esperimenti mentali idealizzati che è anche l'esperimenten che noi qui dobbiamo capire prendere con grano salis perché naturalmente questa è la realtà e la realtà è molto molto più complicata va bene forse lo sospendo qua adesso c'è questo che attraversa col telefonino insomma ecco qua va bene l'avete visto a sufficienza basta allora allora secondo me come etica qual è la situazione adesso un po' di questa bisogna programmare i veicoli senza conducente sicuramente per affrontare il problema delle collisioni in situazioni però non deterministiche di prevedibilità assoluta ma di incertezza sia ragionativa sia di dati sensoriali perché l'omissione di fare questo sarebbe moralmente inaccettabile quindi questo è qualcosa che chi costruisce le automobili senza conducente deve assumere come responsabilità morale ma le parti interessate qua e questo è il problema di fronte a tutta questa incompletezza quali sono le parti interessate chi le fabbrica gli ingegneri i policy makers come si dice adesso diciamo i politici che devono fare le leggi devono fare le normative le associazioni di automobilisti le associazioni di utenti ipedonali si devono incontrare e devono fornire delle specifiche per gli algoritmi decisionali perché fino a quel momento il povero ingegnere non sa che pesci prendere lui ha bisogno di un qualche ordinamento di preferenze ma queste preferenze da schemi morali conflittuali difficilmente arriveranno va bene diciamo che questo diciamo su questo punto beh l'intermezzo era molto velocemente perché ho visto sto facendo molto tardi come sto messo vediamo un po' sono 26 uh 5 minuti va bene va bene allora saltiamo questo qua se qualcuno ha voglia di parlarne sul problema dei compiti superumani in chirurgia e quindi tutti i cambiamenti di ruolo sociologici ma ci sono sicuramente anche delle questioni di carattere etico per esempio per il consenso informato che deriva da un principio deontologico cioè il chirurgo che in un certo senso con questo sistema che diventa sempre più autonomo è una fonte autorevole di informazione per il consenso informato e poi come nei guasti delle centrali nucleari noi affidiamo a un sistema automatico la risoluzione perché non ci sarebbe il tempo per mettere nel loop di controllo l'uomo e beh ma in caso di situazioni di emergenza per esempio di un sanguinamento massiccio di cui se ne accorge il sistema chirurgico in tempo e rapidamente deve passare per l'autorizzazione dell'essere umano o no quindi come vedete ci sono tanti problemi non siamo ancora una sistematizzazione c'è una varietà forse non sono nemmeno collezioni di farfalle una diversa dall'altra ci sono delle aree di famiglia però quest'altro è un altro problema quello delle armi autonome quindi le armi autonome per esempio questa qui è molto semplice si capisce subito l'ha fatta la Samsung e l'ha messa l'hanno messa il governo di Sud Corea al confine nella zona demilitarizzata fra le due Coree questa può operare con un piccolo switch di modalità in modo autonomo può decidere di aprire il fuoco senza attendere il via dell'operatore umano quindi tirar via dal loop di controllo proprio l'operatore umano va bene allora in questo è una ma una cosa forse più interessante di adesso ha a che fare con gli sciami di intelligenza artificiale di sciame dove praticamente il comportamento semplice che non va eccolo qua sono io che non premo il comportamento diciamo collettivo per così dire intelligente deriva da comportamenti piuttosto semplici questo è su youtube ed è quello che sta facendo sta facendo diciamo le forze armate americane stanno sostanzialmente costruendo degli sciami di piccoli oggetti volanti che hanno la capacità di riorganizzarsi per esempio per circondare un nemico va bene io qua non si vede praticamente nulla vero? non si vede niente è bello però bello questo può essere una mostra una mostra astratta sulla robotica visto che era intervenuto prima eccolo qua l'hanno fatto diciamo questo è ovviamente simulato ma l'hanno fatto anche in realtà lanciandone tanti dai aerei di trasporto militare lo farò vedere ma vabbè non va bene non fa nulla fate finta che l'avete visto arriva ve lo immaginate questo si può immaginare bene questo è qualcosa che ha degli impatti sulle conseguenze importanti e questi sono dal punto di vista etico oltre che dal punto di vista della politica internazionale importanti questo è un articolo veramente una memoria pubblicata dal British Pugwash molti di voi sapranno cosa è il Pugwash chi no magari ne parliamo dopo nel novembre dell'anno scorso quindi meno di un anno fa e sostanzialmente trasportare trasferire questa tecnologia di sciame sui sottomarini piccoli sottomarini che hanno problemi ovviamente di trasmissione del segnale quindi controllo in remoto è molto difficile quindi l'autonomia c'è una spinta forte all'autonomizzazione di questi sistemi robotici bene che possono fare possono per illustrare sostanzialmente tutto l'Atlantico circondare i sottomarini nucleari dell'avversario nel caso stiamo pensando ovviamente alla Russia e quindi avere una mappa precisa di dove sono che cosa significa questo significa che quella che si chiama MAD la Mutual Assured Distraction sistema di deterrenza basato su MAD cioè sul fatto che se io ti colpisco nuclearmente tu mi colpisci in risposta viene in qualche modo se non proprio vanificato ma indebolito fortemente perché perché nel momento in cui io colpisco so dove sono tutte le possibili fonti della reazione nucleare quindi come capite lo sviluppo di queste tecnologie di autonomizzazione dei sistemi d'arma ha un impatto su scala globale molto importante questo si sta discutendo a Ginevra ho partecipato a solo uno di questi incontri nell'ambito della Conventional Conventional Weapons nella quale si discute se le armi nuove sono coerenti o meno con le leggi umanitarie in guerra per tre anni hanno fatto discussioni di esperti solo adesso hanno messo su un gruppo di esperti governativi che deve decidere se si metteranno al bando le armi autonome oppure si farà una regolamentazione restrittiva oppure come alcuni paesi sostengono quelli soprattutto che hanno un vantaggio tecnologico non c'è niente da compiere tutto va bene la discussione e qua mi chiudo sostanzialmente la discussione è questa dal punto di vista morale a questi tipi di argomenti così si è svolta lì a Ginevra da un lato c'è chi dice ma guardate permettere a un'arma di uccidere un essere umano è sostanzialmente violare la sua dignità perché perché non ha la possibilità l'essere umano di fare appello per godere all'empatia all'umanità di qualcuno ammesso che ci sia si trovi dall'altra parte e poi si scaricano le responsabilità cioè il problema delle molte mani chi è il responsabile di un eventuale che ammonta materialmente a un crimine di guerra anche senza l'intenzione commesso da un'arma autonoma dal punto di vista del conseguenzialismo quelli che sostengono le armi autonome dicono ma quelle le armi autonome saranno più precise sul campo di battaglia non avranno le emozioni non commetteranno crimini di guerra per una follia momentanea però il problema è che non guardano ecco hanno una finestra molto piccola sulle conseguenze da considerare chi assume il punto di vista conseguenzialista può invece dire guarda ma tu stai guardando il campo di battaglia io ti ho parlato prima di altre cose cioè ti ho parlato che a fronte di questi vantaggi qualche bara in meno di ritorno e quindi comodità maggiore dei politici per abbiare delle guerre a fronte di questo avrai un ritmo accelerato di conflitti impossibilità di controllare nel senso di metterci un uomo che abbia i suoi tempi di reazione nel loop di controllo e gli sciami quello che vi ho detto è una nuova corsa alle armi convenzionali adesso sulla base di questi ragionamenti secondo me l'etico l'ingegnere devono ragionare sui vari sistemi questo è Iron Dome è permesso o no secondo quelli ragionamenti morali secondo me sì perché Iron Dome è semplicemente un sistema difensivo che cerca di intercettare i razzi che vengono dalla striscia di Gaza oppure da altre cose questo già è molto più difficile perché è un sistema che viene chiamato loitering cioè che si suicida per così dire sui sistemi radaristici del nemico però guardate che c'ha c'ha sei ore di loitering ben sei ore in un scenario che non è quello dei laboratori ma in un scenario di guerra le cose possono cambiare moltissimo una postazione radaristica può essere emessa per esempio vicino a una scuola e quindi per esempio qua quegli argomenti hanno cominciano a far presa la sentinella secondo me è il caso banale nel senso che quegli argomenti sono fortemente contro perché non hai nessun vantaggio strategico è vero che non è destabilizzante però non hai nessun vantaggio nemmeno per i tuoi soldati si tratta soltanto di pagare uno stipendio in più è un addetto delle purtroppo anche la Turchia ha sviluppato qualcosa del genere al confine con la Siria e naturalmente questo è molto importante per quanto riguarda i flussi migratori in arrivo basta vi ho detto tutto e secondo me questa parola di Alan Turing che a conclusione del suo articolo nel 1950 Computing, Machine, Intelligence si può applicare anche alla ricerca e alla discussione etica che deve essere ben al di là dei cerchi dei filosofi che fanno l'etica cioè noi veramente possiamo vedere poco in avanti rispetto a quello che succederà ma già in questo poco ci sono moltissime cose da fare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti